Un'altra stagione è in archivio e per la Juventus San Michele la storica e blasonata società di calcio foggiana, da sempre fucina di talenti ma soprattutto scuola di vita per i più giovani, è stato un altro anno caratterizzato da soddisfazioni che, come le ciliegie, sono arrivate una dopo l'altra. Una stagione che ha fatto calare il sipario con un altro imperdibile appuntamento, ovvero il mondialito scuola calcio torneo San Michele, dedicato ai piccoli amici, ai primi calci e ai pulcini. Un torneo a cui hanno preso parte le società uniti Cerignola, DF Lucera, il Lucera Calcio, DL Foggia, il Real San Giovanni, la Juvenalia di Foggia e ovviamente i padroni di casa della Juventus San Michele. Ha vinto la gioia di imparare giocando, valore che a San Michele da sempre è fondamentale. Hanno sottolineato i protagonisti della storica società foggiana preseduta da Valerio Russo ma con tanti educatori di calcio e di vita. Da mister Michele Murani al responsabile della scuola calcio Vito Solazzo, passando ovviamente per il presidente e responsabile tecnico Valerio Russo e per tutti gli altri protagonisti di un club che ora dà l'appuntamento a tutti per i primi di settembre. Intanto è proprio Valerio Russo, spalleggiato da mister Murani, a fare un'analisi di quella che è stata la stagione nell'intervista rilasciata a Maria Luana Tonti. Ma è andata molto bene, venivamo dalla pandemia e abbiamo fatto un'attività in denta che è andata dal mese di settembre fine a sabato che abbiamo concluso con determinate attività. I campionati giovanili che abbiamo sviluppato sono stati l'Under 14, l'Under 15, l'Under 16 e l'Under 17 che ci hanno dato dei buoni risultati, però uno degli obiettivi nostri non è a livello giovanile il risultato, anche se noi nel 2018 abbiamo vinto il titolo regionale dei giovanissimi, ma il nostro obiettivo è insegnare ai ragazzi a fare sport e tramite lo sport quelle che sono le regole per diventare un buon cittadino. Il nostro obiettivo è dare continuità a questo progetto con questi ragazzi, il nostro obiettivo principale è togliere quella tensione del risultato ai ragazzi. Sai, l'errore fa parte della vita quotidiana, quando vuoi raggiungere per forza un risultato è facile che un ragazzo prenda tensione, che abbia paura di sbagliare. Invece noi diciamo a San Michele, imbariamo giocando, imbariamo sbagliando, perché l'errore ti dà la possibilità di migliorarti, ma nello stesso tempo non toglie al ragazzo il piacere del gesto tecnico e il piacere della creatività, che fanno parte del gioco del calcio. Noi il prossimo incontro che avremo con i ragazzi, adesso ci incontriamo una volta alla settimana per dare modo ai ragazzi di non smettere definitivamente, ma in tutti i modi noi riprendiamo a fine agosto e il nostro obiettivo rimarrà sempre, sicuramente noi essendo una società sportiva, ma una società cristiana, noi seguiamo molto l'insegnamento di Papa Francesco, che ci dice che ai nostri giovani gli dobbiamo inculcare il valore di lealtà, il valore di impegno, il valore di sacrificio, il valore di inclusione, il valore di riscatto e il valore di spirito di gruppo. Noi nonostante siamo una società cristiana, abbiamo tanti, ma tanti ragazzi, figli di migranti, che ci danno grande soddisfazione, perché nello sport vedono proprio una forma di riscatto.